Ciao ragazzi e ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Tano Games, io sono sempre Domingo, oggi vi porto un video su Shen, l'unico champion, cioè l'unico tank attualmente che valga veramente la pena giocare, un tank forte, ha una ulti globale che ti permette di salvare e romare per la mappa. Io mi invito ad iscrivervi al canale se il canale non può interessarvi, di lasciare un like, un commento anche per darmi qualche consiglio, critica, che sia costruttiva ovviamente, poi mi fa piacere vedere le interazioni sotto ai video. A parte questo, siamo contro, siamo contro Tryndamere, senza Ignite, cosa stranissima, ma probabilmente perché con Shen, con Shen ha paura che io inizi a romare, come rune, come rune abbiamo presa dell'immortale come principale, quindi dominazione, e come primo oggetto, inizieremo con una Tiamat per farmare, cerchiamo di non perdere nessun CS, sto sudando, sto sudando come un porco, sinceramente, perché ho stifari accesi per risaltare la qualità della webcam e fa un caldo buio, Tryndamere non c'è, non vorrei che, ah eccola, eccola, pensavo in un remake, già ci abbiamo messo mezz'ora per, per startare, ma contro Tryndamere siamo leggermente in vantaggio, perché con la W pariamo gli adattacchi, Shen è un tank, oltre ad essere un buon tank, è forte, principalmente contro Team Comp, AD, che sfruttano gli adattacchi, che con la W pariamo gli adattacchi, ovviamente. cerchiamo di non perdere il CS, io me la gioco abbastanza safe contro il Tryndamere, però se lui fa ste cazzate, lo puniamo, cerchiamo di attaccarlo quando abbiamo la presa dell'immortale attiva, così gli fottiamo un po' di vita, non c'ho l'ignite, quindi la posso cavare abbiamo il taunt, un dash free quindi possiamo stare, oh cazzo il carretto, non devo perderlo devo perdere il carretto cercate di giocare sempre vicino all'uno, cioè vicino alla spada, così se Tryndamere vi ingaggia, attivate la W e lo punite, sto Tryndamere è un po' in coglianza io sto perdendo il farm Kaiser ok abbiamo sangue merda preso appena c'ho la Suprema iniziamo a rammare per salvare il team e gankare no, non volevo perdere quella che premade con il jungler questo? non lo so tutto CS a 21, lui sta farmando anche bene I'm 8, too late fra troppo tardi non c'ho il taunt non c'ho il taunt, quel cazzo faccio ora ce l'ho però con Shen dobbiamo stare attenti molto alla mappa più che altro agli alleati che ci può essere sempre un'opportunità per fare qualche kill o salvare qualche alleato devo togliere di mezzo preso devo togliere di mezzo sti cavolo di caster che mi pushano la wave cioè pushano la sua di wave poi gli faccio un botto di danni ok, ci abbiamo la R lo puniamo ogni volta che si avvicina sicuramente non so mai cazzo che sta giocando si fa prendere un sacco di schiaffi non vorrei che ha flashato glielo vingo 4,1 CS a 29 sta proprio più farmando Drindamer c'ha paura sinceramente e poi tra l'altro una champion selector non l'ha registrata però Drindamer ha piccato dopo di me quindi poteva benissimamente piccare un champion come sfruttasse gli adattacchi così tanto come come Drindamer ok vediamo un po' se posso romare possiamo guardare un po' tornavamo in lane luce al critico a massimo la furia 52 CS stiamo farmando meglio del nostro team che una volta fatta la Tiamat dovrebbe avere 700 in realtà c'è molti di 700 posso anche regolare vediamo un po' in bot noi abbiamo una DC abbiamo Rengar Pyke io ero la di che cioè io ero il supporto ah lui ha ultato cazzo sto flash era inutile vabbè spregato un flash io regollo potete auntarlo io in realtà forse lo ammazzo devo stare attento a Fitz però cazzo che sto perso serie di uccisione del nemico ma se lo fanno anche se non intervengo ok muovare collo posso restare troppo tempo qui regollo e mi tipo top prendamelo 49 CS io non 64 mi faccio la Tiamat e mi faccio vuole fare anche questa contro Tiamat contro coso cazzo fai lo trovo si è forte anche calzari dei ninja quindi me li faccio tanto loro non dico che sono full ad però comunque c'è Ezreal a posto a posto champion mi è sempre piaciuto come champion solo che giocando principalmente o support o midlane non lo uso poco però mi piace mi piace come champion cazzo l'ho perso allora si sta buildando critico quindi io direi un gloria del giusto me lo fo me lo fo tipo come primo oggetto ora vediamo ovviamente questa Tiamat la chiudiamo in idra titanica ha ultato vabbè ci volevo scrivere 30 ult però non so come cavolo si pinga le ultimate la R devo qualche scorciatore su internet buono la registra torre 30 mergi a tp in teoria si provo se prima l'ha usato quando l'ha regolato fizz quanti kills ha 2 kill 3 morgana non si sta sugando male contro morgana cioè avere giocato safe ovviamente essendo lui che non riesce a giocare contro morgana avrei giocato safe fino al 6 poi ha iniziato a romare a manetta cosa che lui non ha fatto mostro 30 merito se lascio la lane mi pusha mi pusha male non so si sta a far un static penso questo è il classico drinda mi sa che pure se perde la lane inizierà a split pushare come se non ci fosse un domani 4 cs l'ora di farm l'abbiamo un po' distrutto problema che bot non abbiamo una di carry stavo dicendo prima che mi hanno chiesto di andare in bot entrambi perché 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 erano premi di dirlo il supporto volevo fare un video su sciapo supporto visto che ultimamente ho visto che lo stanno spammando il professional l'ho preso col town sorry 98 cs buona farm devo dire la verità non perfetta ma non male perso qualche minion devo perdere il carretto merda volevo mi sto applicando a guardare bot perché vorrei ruttare per salvare qualcuno ok stavo usando bot però non riesco cazzo forse quello forse ce la fanno ok ce la fanno dai c'è bisogno questo non c'è fammi andare bot no l'hai morta cazzo ci ho fatto a salvarlo questa la perdiamo non vorrei essere così pessimista ma vai io me la gioco poi quasi vede ah cazzo questo mannaggia ha perso il dominio cerchiamo di perdere il carretto ok sto gioco perennemente sottoturre i drago si stanno a fare il drago della nuvola io direi di guardare qui ok oh se me ne vado perdo la torre 30 metri la fa in 3 secondi ho 200 cs dovrei regolare c'è cs ho 200 monete 2000 monete lo fanno si dai io devo beccare però eh faccio sta wave poi becco non rommato come volevo ma c'è rommato non ho usato nel tp botto mid nella suprema più di una volta perché perché ho paura che questo mi fa la torre e non sono state prese ancora nessun nessun nessuna torre no però devo beccare c'è un fottico di soldi mi chiamante kill c'ha 7 kill morgana allora abbiamo detto devo fare questo sicuro mi faccio questo quello per moncana per moncana non è buono ok quindi si prende la mia la torre veloce quindi se la pigi buono 30 per dopo pure pigia e tanto si dà me se la prima 30 per se la pigia non ce la faccio ad arrivare voi state affanare da 18 minuti non ho beccato di no me devo pittarlo con i sordi quindi con il farm vediamo di la scaffa qualcosa pittandome in questo modo torre presa manlo presa oh cazzo cazzo salvato non è male se ha avuto il flash forse si mi accontento pure di te non c'è problema c'è sincero basta che schiatta uno push a bot c'è fizz qua non c'è scoprendo questa torre bot manca la torre si sono presa manco io in realtà dettagli però mi sono preso una video ok ok io ho il tp spero di non usarlo per andare mid ragionendermi la torre ragionendermi la torre mannaggia ho fatto di nuovo un taunt tutto nel muro questo mi serve guarda se te lo prendi ti rompo il culo ti rompo il culo merda guarda 6,7,6 in realtà mi serviva per la rigenerazione però c'è però c'è la warmonks di cazzi chi è c'è 7p Morgana ma non è questa Morgana è proprio non voglio dirlo ma è un dito dove non batte il suo dove uscia tutto il cazzo ok forse per un po' posso splittare trindano per rompere i coglioni devo farmi pure il mantello del sole in realtà lo scende è buono Fizz livello 13 si riesca a schivare il pesce si riesca a schivare il pesce di Fizz forse torre di merda flashato fatevi sto pesce buono e devo andare da qua perfetto chi si è fatto lo z da portare lei pure lo zzzirotto si è fatto non lo fatemi ma no ma quanti cazzo i cc eh mi ha lasciato solo questo ma di sciatemi le vela no che scappi vi lascio le vostre cose mi hanno fatto un cazzo oh non contenta lei dice continuo in realtà se vogliono fare il drago allora è qui la festa voglio aiutare a prendere il drago ma non è cosa non è cosa vuoi da sto cazzo di culo buono sono livello 18 sono livello 18 il farm boys il farm farmato decentemente sto game meno meno si spera vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo a prendere sto cazzo tre carretti alla fascia del kaiser tre carretti super pompati riusciamo a prendersi non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è cazzo 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 tanzi sarei in go quello è il mio piano da portarti da rengo ok io mi tipo bot e splitto bot e valince è morta allora questa partita non finisce più io mi sto un po' gioccando tutti sti fari addosso qui tutti sti riflettori questa cavolo di webcam sostanzialmente sto giocando questo cavolo di shen vediamo se riesco torre di merda ancora oh cazzo non volevo fare questo flash volevo flashare dall'altra parte ma ho flashato nel muro i miei teammates cosa fanno mentre io ho un team addosso niente navigano cioè navigano si fanno i giri per la landa non prendono i torri vai bello vai vai in vai in ti sto ultando porco demonio bastardo quando ti ulto devi ingaggiare ma cosa perché non ti venti in testa perché non ti venti in testa oh oh eeeh ma ne passi ok non sto esagerando più che altro talon non capisce quando lo ulto devo andare in per la retenzione servita un cazzo comunque ripeto non so se qualcuno è arrivato a questo minuti però shen veramente forte come tank attualmente uno cioè è l'unico tank diciamo veramente valido poi ovviamente ovviamente uno può giocare quello che gli pare no di nuovo oh oggi questi town è una cosa esagerata l'ho fatto già tre volte nel muro vado stiamo perdendo tempo per questa vero sincero usciamo mid cerchiamo di prendere il baron però usarlo sto baron non è che io mi prendo un team addosso e voi fate i ragazzi vostri prendo lo zotavort altanto non me li blocca cioè mi blocca la punta di minion in realtà però stiazzi ok però l'inipitore ce lo siamo presi abbiamo tankato pure abbastanza tutti sti soldi e manco due ecco siamo full build faccio una pozione pozione un cino a volo si la trovo si la trovo però si la trovo questa qui a posto possiamo tornare pressivamente subito nei fight se torno in vita io comunque ho visto che ultimamente sto facendo iscritte per quei pochi iscritti che sto a fare però penso penso che un minimo di interesse c'è quindi io ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo anche se non ho visto nessun commento in particolare vi ringrazio vi do benvenuto non so se qualcuno vedrà il video fino adesso 44 minuti ma editerò ovviamente spero di farlo diventare a meno 20 minuti perché 44 minuti di video che cazzo sovite sinceramente quindi boh vediamo sarà una rottura di coglione anche editarlo però 48 minuti di video e il team c'è il team il game non finisce ancora ok qua abbiamo comprato tutto pushiamo andiamo mid all mid dai all mid chiudiamo sto game dai chiudiamo sto game ma perché continuano a romare tutti a livello 18 due inibitori a terra dovremmo pushare mid tutti insieme invece fai che si va a fare il red talono si fa i zebedei rengar va da solo e vince mi sto un po' agitando per niente dai è vinta è vinta ultime parole famose comunque comunque io lo ripeto ancora giocate se volete giocare un tank giocate shen attualmente è forte specialmente contro team comp full ad easy easy levo un squeeze non tancarti la turra però sciogli energia oh mi sta acerendo mi sta acerendo mi sta acerendo bravo bravo andiamo rengo portami intanto mi sta uccidendo mi sta uccidendo ho tancato 5 enemy oh e questo video sta finendo questo team sta finendo io se hai guardato il video fino adesso ti ringrazio oppure se sei passato sul canale se hai lasciato un like e niente ci vediamo nel prossimo video non so cosa fare farò ma porterò un video io rispammo la maestria rispammo la maestria oh oh brutto cazzo vabbè dai tanto penso che è vinta ma io ero l'ultimo rimasto in vita tanto è vinta io vi ringrazio se avete visto il video fino ad adesso vi invito a iscrivervi a lasciare un like commentare noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti da domingo